Si è tenuto con successo di pubblico la settima edizione del premio Terre del Bussento Summer Edition, un evento nato da un'intuizione di Matteo Martino, di fresca nomina come responsabile nazionale di Confimpresa Turismo, che inizialmente intendeva dare un giusto riconoscimento a tutti gli uomini e le donne che nei rispettivi settori di appartenenza avevano dato lustro all'intero territorio del Salernitano e che ormai ha varcato i confini della Campania. Premiare la Salernitanità è stato l'input iniziale del premio, che poi ha allargato sensibilmente il suo raggio di azione. Un premio che ha come partner istituzionale il Comune di Sapri, il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diane e Dalburni, il Distretto Rurale Terre Basiliane del Cilento, Confimpresa Turismo. La produzione esecutiva del premio è stata affidata a gruppo Eventi, mentre il partner ufficiale dell'evento è il gruppo siciliano Il Greco. Sono tanti i personaggi che nel corso degli anni hanno ritirato il premio Terre del Bussento. Quest'anno il parterre dei premiati scelti dalla giuria preseduta dall'avvocato Franco Maldonato vede molti nomi del mondo della cultura e dello spettacolo italiano. Tra questi Diego Bianchi, conduttore del programma Propaganda Live, ma anche Cataldo Calabretta, giornalista e conduttore televisivo, Mariolina Cannudi, conduttrice televisiva, Carlo Paris, già direttore di Rai Sport, Massimo 5, autore televisivo, sceneggiatore e regista. Ancora Roberta Morise, modella e conduttrice televisiva, Guglielmo Stendardo, Veronica Maia, conduttrice televisiva. A presentare la serata, Maria Rosaria Sica, giornalista del Sole 24 Ore e conduttrice di Discovery Food Network. Durante la serata si sono tenuti anche degli interventi di spettacolo a cura di Marianne Li e Carlo Maria Todini.